Si chiama Todd Bosowski, è un uomo originario della Pensilvania, possiamo considerarlo come una persona che ha sofferto un sacco nella sua vita. Infatti pensate che da prima la morte della madre, poi c'è stata quella della matrigna, che si sono verificate per mano dello stesso umano, ossia il padre di Todd. Soltanto dopo ha capito che era stato il padre a compiere quel duplice omicidio, una tragedia veramente incredibile. Conosciuto come un uomo di chiesa, il rispettoso ed educato Timothy Bosowski avrebbe fatto fuori prima la moglie e poi addirittura la seconda moglie, Marianne Fullerton-Bosowski. Pensate che Todd, il figlio, ha saputo tutto questo soltanto anni dopo. Si è accorto che l'uomo, come il padre Timothy, avrebbe o meglio ha compiuto il duplice omicidio, il duplice femminicidio. Vi ringrazio per l'ascolto, una vicenda questa che è degli incredibili, che ci giunghi da Yusa, che ha vicendo l'oregonista costui. Timothy, il padre di Todd. Todd ormai è un ragazzo nuovo, è un uomo grande, di età maturo, che però porta dentro i segni derebili di una tragedia.